L'organismo di composizione è stato accreditato presso il Ministero della Giustizia, il numero 23 in tutta Italia, ripeto il primo d'Abruzzo, e la funzione principale è quella di seguire verso un percorso di riabilitazione e di esdebitazione tutti coloro che hanno una situazione debitoria importante, privati ed imprenditori, non fallibili, quindi coloro che non rientrano nelle ordinarie procedure di concordato preventivo o fallimentari. Il secondo tema, quello del massimario, è un'opera molto importante, diciamo fatta in sinergia con le commissioni tributarie e con l'Università di Teramo, per cui la nostra fondazione ha svolto questa attività veramente importante, ripeto perché è un'opera enorme di massimizzazione di tutte le sentenze, rivolta a tutti gli operatori del settore. Come questo organismo può dare il contributo alla risoluzione della crisi? Lo può dare dando una mano, infatti l'organismo non fa altro che prendere per mano il debitore e attestare quel piano, quella proposta nei primi due casi previsti dalla legge o la procedura liquidatoria, che è il terzo caso, quello residuale, all'imprenditore o il consumatore sovraindebitato e quindi riabilitarlo, dandogli una seconda possibilità. Cioè voi pensate a tutte quelle persone che oggi non hanno, sono incagliati in una situazione di sovraindebitamento, quindi non possono riniziare una nuova iniziativa produttiva, ma sono anche turbati dal punto di vista psicologico, perché pensate ad un avere un conto corrente, non poter cambiare un assegno, non poter nemmeno incassare lo stipendio e frustratere anche da azioni esecutive da parte di operatori specializzati, l'organismo attesterà e aiuterà questo sovraindebitato a riqualificarsi e quindi avere una seconda opportunità.